Ciao, da Ricky Quagliato mi porto a scoprire il set DS Drum che uso in tour con Gianni Moratti. Premesso che a me non piace ascoltare concerti dove la batteria ha lo stesso suono dall'inizio alla fine. Normalmente si risolve questo problema usando diversi trucchi, trigger e così via. Questa volta con Ricky proprio l'idea era quella di fare il suono più naturale possibile però contemporaneamente di riuscire a caratterizzare ogni brano con la sua sonorità. Abbiamo un kit molto particolare che si sviluppa da un concetto pop dove abbiamo cassa, tom 12 e timpano 14 e ride e crash molto grandi e scuri. Un rullante d'alluminio 13x7 che è il cuore dello strumento. Con questa particolare sordina della snare right che permette di avere un suono di punch e pop molto bello o all'occorrenza un suono anni 60 pieno di overtones dove all'occorrenza brano per brano riesco a creare le sonorità necessarie. Dopodiché un classico vanettone 14x5,5 di ottone e un piccolo per tutto il repertorio degli anni 90 un 10x5. La grande caratteristica di far lavorare un acero con pelli Evans G1 quindi molto 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 libere, molto performanti e molto chiare come timbro. Principalmente gli overhead sono ripresi in due modalità. C'è una modalità stereo più moderna e poi ho aggiunto un microfono mono messo proprio dietro la testa di Ricky che mi riprende il kit nella sua totalità e nei brani anni 60 questo microfono è anche molto preponderante nel mix. Quanto riguarda gli spot ho deciso di usare il DPA 4099 che hanno comunque una qualità molto alta sia per il rullante che per i tom. Per la cassa anche lì ci sono due microfoni, il Bayer M88 che è il mio preferito sulla cassa anche in studio e poi uno Shure 91 però mi sono creato anche due altri canali, uno di sub e uno di transiente e quindi avendo queste quattro sorgenti riesco brano per brano a ottenere suoni di cassa completamente diversi. Una cosa curiosa è sicuramente l'integrazione di qualche spostamento strano come il tono da 10 montato a destra perché usato solo all'occorrenza oppure queste sorte di clap analogiche per riprodurre ovviamente una sonorità più digitale dove abbiamo un mini charleston da 6, uno splash da 8 e dove abbiamo invece una clap, uno stack da 10. inoltre ho aggiunto al kit una crash ozone da 16 e una china per le sonorità più acide che riprendono un po' le sonorità del rock. Questa è la scelta sicuramente curiosa di questo kit e che mi ha permesso bene o male di poter offrire una gamma sonora ampissima e soprattutto molto versatile. La batteria è impeccabile, non ho proprio niente da dire, ci abbiamo messo veramente poco a tirar fuori il suono e questo si ottiene solo se la sorgente è super valida, in questo caso tra il modo di suonare di Ricky che è veramente super flessibile e il suo kit abbiamo fatto veramente poca fatica. è solo un lavoro di mix, vero e proprio, cioè di lavorare fino a che non si sente come ho io in testa e quindi poi questa cosa con un pianto di questo tipo allineato molto bene fa sì che arrivi alla gente anche questa sensazione di qualità. Ma il segreto di questo tour secondo me è ritornare ad avere i musicisti e tanti che suonano con dei begli arrangiamenti e poi basta perché poi alla fine questo è un approccio che ultimamente è stato un po' dimenticato e quindi quello che può sembrare un ritorno al passato invece secondo me è un ritorno al futuro.